Era una diversa situazione, una diversa delle persone, però cosa si vuole fare di questa struttura? Allora, siamo il parno dell'emergenza? Abbiamo discusso con gli operatori del numero unico dell'emergenza, le loro ragioni e le loro difficoltà. Emerge con forza una dotazione tecnologica inadeguata, questo ha a che fare con l'ultimo episodio del blackout a causa di questo temporale, è chiaro che bisogna capire quali sono le misure per correggere questo rischio, ma secondo me qui c'è una ricognizione complessiva che deve essere assicurata e questo lo faremo nelle prossime settimane, individuando anche delle responsabilità e soprattutto le azioni correttive complessive, che partono da tecnologia, arrivano ai sistemi organizzativi e hanno a che fare anche con la dotazione e la qualificazione del personale impiegato.